Come Lega ci proponiamo di essere forza di governo anche a Roma, dove non siamo mai stati evidentemente, però c'è disperato bisogno di normalità. Questa scuola politica, così come l'azione della Lega, non solo del Comunale di Roma, ma a Milano, a Torino, a Bologna e per il governo dell'Italia, si propone di restituire normalità a questo Paese, il che vuol dire un po' di sicurezza in più e qualche posto di lavoro in più. Non è normale un Paese dove oggi il Ministro dell'Interno, con tutto quello che sta succedendo nelle nostre città, stia trionfalmente allontanando 19 profughi che vanno in Svezia. Se il ritmo sarà questo, nel 2095 forse saremo arrivati alla metà dell'opera. Fortunatamente penso che dopo Marino toccherà ad Alfano e quindi la normalità tornerà ad essere un valore di moda, cosa che si è persa.